E' stato sorpreso in un capannone attrezzato come un'officina meccanica mentre smontava pezzi da una Fiat Panda rubata durante la mattina nel parcheggio di un noto centro commerciale di Foggia. E' finito così in manette Silvestro Clemente, foggiano, già noto alle forze dell'ordine per reati dello stesso genere e contro il patrimonio. Quando gli agenti delle volanti hanno fatto irruzione nel capannone, sito su via Castelluccio, alla periferia della città, il Clemente aveva appena sradicato e gettato in un secchio d'acqua il dispositivo GPS di cui l'auto era dotata e smontato già l'impianto elettrico e le targhe della vettura. Nelle vicinanze del capannone sono state rinvenute parti meccaniche e pezzi di carrozzeria di altre automobili delle quali si sta accertando la provenienza. Il Clemente dovrà rispondere di ricettazione di mezzi rubati, sequestrato anche il capannone e tutta l'attrezzatura utilizzata per lo smontaggio delle vetture.